È una terra difficile, difficilissima, però è la bellezza di stare su un'isola come questa qui. Si, tu veramente ascoltare si anche puoi sentire la vibrazione della terra. Lei è quella che ci accompagnerà al matrimonio anche, quindi sarà parte della nostra storia. La panda che c'entra... Le pande si smontano tutti i giorni, ce ne sono un miliardo all'isola. Ci sono solo panda. Mette in moto il cammino, consuma poco, non fa domande.